Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV quest'oggi vi mostrerò il mio album della Roma 2018-2019 ragazzi veramente bello edito da Euro Publishing ragazzi di questo tipo di album fanno sempre stickers originali quindi proprio delle squadre c'è quello della Roma, c'è quello della Juventus, quello dell'Inter e quello del Milan non so se poi fanno di altre squadre adesso non lo so sinceramente quelli che ho visto in giro sono questi questo è quello riguardante la Roma adesso lo andremo a vedere nello specifico ma è veramente veramente bello ditemi se anche voi state facendo una collezione di questo tipo di album se vi piace particolarmente o no fatemelo sapere sotto nei commenti allora la prima parte qui c'è questo scudetto bellissimo che io devo completare come vedete è completo a metà ho trovato la figura numero 1 e la numero 3 da quest'altra parte c'è il calendario sul quale io non scrivo mai anche su quello dei calciatori non scrivo mai i risultati perché secondo me è molto più bello lasciarlo così poi c'è la prima parte che è quella relativa alla grande impresa fatta l'anno scorso dalla Roma in Champions League in cui è arrivata come sapete in semifinale eliminata dal Liverpool ma ha battuto anche squadre tipo il Barcellona con una grande rimonta poi c'è questa pagina in cui c'è tutta la squadra quasi tutti i titolari oltre Santon comunque sono quasi tutti i titolari della formazione giallorossa qui vedete c'è Manolas c'è Olsen c'è Fazio c'è Zonsi c'è Dzeko c'è Pastore c'è Santon Florenzi De Rossi Kolarov e El Sharawi poi c'è la rosa qui c'è tutta la rosa della squadra della Roma io ho soltanto Mirante Marcano Manolas Cristante Soric Zonsi Dzeko Under Schick Kluivert e El Sharawi di questa parte qui di album poi c'è la parte relativa alle maglie ufficiali di cui io ne ho 3 su 4 la maglietta quella che si usa diciamo quella principale che è quella giallorossa e poi ci sono le altre poi c'è l'allenatore che usa il bio di Francesco come vedete per ogni calciatore c'è la figurina speciale è glitterata e poi ci sono altre figurine che lo rappresentano in media sono 5 o 6 figurine per ogni calciatore qui c'è Olsen come vedete cosa bellissima ragazzi c'è una frase detta dal calciatore relativa alla Roma abbiamo la figurina speciale poi un'altra in movimento poi c'è Mirante Fusato terzo portiere della Roma di cui ho due figurine per adesso Carstop carriera a meno quella parte di carriera a Roma veramente piena di infortuni per lui non so se ne uscirà mai fuori Luca Pellegrini anche lui molto sfortunato di infortuni adesso è a Cagliari ma anche lì ha avuto dei problemi un infortunio Guangesus Kolarov o Kolarov guerriero della Roma contestato anche a Roma adesso non voglio dire se giustamente o no comunque è stato contestato parecchio poi c'è Marcano che è un po' oggetto misterioso ha giocato veramente pochissime partite con la Roma poi c'è Santon che la Roma ha preso quest'anno dall'Inter nell'affare Nainggolan all'Inter e è arrivato lui Santon e Zaniolo alla Roma Zaniolo è un grande affare per la Roma Santon forse un po' un po' meno anzi forse molto molto meno Fazio di qua comandante della difesa della Roma quest'anno secondo me una stagione un po' sottotono la sua Bianda eccolo qua poi c'è il poster centrale in cui si può fare la formazione tipo della squadra qui c'è per fare l'ordine delle figurine mancanti Manolas grande guerriero io ho la pagina completa di Manolas Cristante ho soltanto due figurine di Brian Cristante giocatore proveniente dall'Atalanta per lui un'esperienza anche all'estero con la maglia del Benfica ha fatto veramente poche presenze poi il suo ritorno in Italia con il Palermo poi il Pescara e poi l'Atalanta dove l'anno scorso si è consacrato un buon giocatore e la Roma ha deciso di acquistarlo di qua c'è un altro giovane fortissimo secondo me che è Lorenzo Pellegrini 22 anni anche per lui una certezza della Roma la Roma lo mandò in prestito al Sassuolo per due stagioni anzi forse in comproprietà perché poi lo riscattò nella passata stagione poi c'è Danielone De Rossi per lui come potete vedere qui una carriera con la maglia giallorossa come Totti Daniele De Rossi capitano della Roma di cui mi manca solo la figurina 118 Cioric da quest'altra parte è arrivato con buone prospettive ma forse Di Francesco non vede lui quello che ci si aspettava perché anche lui sta giocando veramente pochissimo in questa stagione Zaniolo invece che sta facendo benissimo 19 anni grande giocatore rivelazione di questo campionato forse il migliore giovane che abbiamo in Italia al momento di qua c'è Florenzi Alessandro Florenzi per lui 27 anni ha giocato quasi tutte le stagioni con la Roma meno che quella del 2011 2012 in cui ha giocato in serie B con il Crotone dove ha fatto 11 gol e poi l'ha richiamato la Roma per tornare a giocare con la maglia giallorossa all'epoca l'allenatore era Zeman che l'ha voluto fortemente e ci ha visto lungo anche se anche per lui questa stagione forse è un po' in ombra ci sono state polemiche anche per lui poi c'è Pastore che un po' per infortuni non sta convincendo tantissimo Zonzi anche lui non mi convince tantissimo poi c'è Perotti Dzeko Dzeko sempre Dzeko Under altro giocatore fortissimo giovane di 21 anni da quest'altra parte c'è Schick Patrick Schick che non riesce a impressionare come dovrebbe visto che è stato un giocatore che ha acquistato una cifra molto alta dalla Roma ma ancora questa è la sua seconda stagione non sta dimostrando tutto il suo valore pare che un pochettino nelle ultime partite si stia mettendo un po' più in mostra ma secondo me è ancora poco poi qui c'è Kluivert figlio d'arte figlio del Kluivert che tutti ci ricordiamo con la maglia del Milan di qua c'è El Sharawi anche per lui è cresciuto nel giovanile del Genoa poi poi ha fatto parecchie stagioni con il Milan anche da protagonista perché nella stagione 2012-2013 ha collezionato 37 presenze con 16 gol che non sono poche poi la breve parentesi al Monaco dove non ha brillato e la Roma a gennaio del 2016 se lo porta a casa e ha fatto un grande affare secondo me perché l'ha pagato la metà di quello l'ha pagato il Monaco perché il Monaco l'ha pagato intorno a una trentina di milioni se non sbaglio e la Roma se lo porta a casa con 15-18 milioni e si sta dimostrando un ottimo giocatore soprattutto in questa stagione secondo me è la migliore stagione fatta dal Sharawi a Roma delle 4 che ha disputato poi non so voi che cosa ne pensate fatemi sapere sotto nei commenti poi c'è la parte dedicata ai 3 scudetti e io purtroppo qui non ho neanche una figurina quindi veramente delusione assoluta poi c'è la parte dedicata alla primavera di cui io ho soltanto questa figurina qui sotto in cui si vedono che i giocatori si abbracciano poi c'è la parte relativa al calcio femminile nella quale mi manca soltanto la 187 e poi c'è la curva sud questa pagina bellissima dedicata ai tifosi e alla curva come vedete ci sono molti scudetti veramente tanti e molte figurine relative proprio alla curva per finire ci sono queste card che si attaccano che come potete vedere cambiano figura secondo come le muovi e di 8 me ne mancano 4 mi manca L1 L5 L7 L8 ragazzi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti